Per esempio tutto il discorso riguardo alla psicologia, il discorso riguardo a lavorare in gruppo, quindi il confrontarsi, il litigare, però alla fine è arrivare una soluzione comune senza scannarsi. È una gestione dei conflitti anche. Esatto, anche tutto il discorso riguardo alla leadership. Hai capito? Qui si fa della psicologia del lavoro anche. Esatto.